buongiorno eccoci qua buongiorno buongiorno e triplo buongiorno eccoci qua con la terza parte del drink let's go buongiorno buongiorno sono francesco allora con chi devo parlare facciamo eula tanto uguale no facciamo eula ah c'è anche lei facciamo questa dai partiamo da qua ciao Ciao a tutti! Paimo sarebbe più sorpreso di vedere se non abbiamo già visto un paio di nostri amici. Aspetta! Tu è Shingha! Questo è una sorpresa! Questo posto non è facile da trovare. Angell's share. Il nome non si tratta di un po' di lingua. Mr. Zhongli era abbastanza abbastanza di aiutare con le direccizioni. Boreal qualcosa di gelato. Caramel Pinecone. Oh! Paimon ha provato quella! È un caffè Pinecone. Caramel Pinecone. Allora, vediamo, voleva qualcosa di freddo. Quindi... Juice... Potrebbe essere Juice... Juice qualcosa di freddo. Frizi... E acqua, però. Due. Dai, facciamo Juice. Due. Sono indeciso tra l'acqua... E il latte. Perché diceva... Mh mh mh. Prendiamo il latte. Oh, vediamo. Forse troppo zucchero. Oh. Oh, tutto. Ben. Che cosa è? Che cosa è un poicchio. Ma non lo sape anche. Ma non lo sape anche. È probabilmente solo un gimmick per farlo per vendere. Un... Gimmick? Un... Paimon è proprio a pensare. Un poicchio. Ma che sia più di una descrizione romantica. Un poicchio? È difficile da dire. Ho' di farlo da fare un poicchio di rispire. Un poicchio. Un poicchio! Oh, ho capito. Mi sembra che capisco ora. Oh, davvero? Ma per quanto è il paimon che è confuso ora? Occasionally, ho provato di erbili di divino, quando mi spazio in le montagne. Ho sentito il momento che un nuovo sprout si rompe nel bosco. La elazione nel mio cuore, allora, fa una sembra a quello che sto vivendo ora. Grazie per aiutare a capire questi nomi oscuri, potrei necessarmi ancora di qualche tempo nel futuro. Ok, anche questa è fatta. Proviamo Lingguang. Obeidu. Dai, facciamo Obeidu. Oh, Lingguang. Cazzo, cambia? Un attimo, ma che c'è una sigaretta. Facciamo Lingguang, dai. Grazie per i follower, Gabri. Qualc'è una sorpresa. Che gata? Allora, vediamo. Spoiletta. Oh, come now. No need to hurt anyone's feelings. Besides, I specifically chose this place because I know how much you like to drink, but our captain here has seen a lot more of the world, so she's not exactly thrilled with this little tavern. It'll do. Anyway, this one's on me, ok? Ok. Ok. Uh, does that include us? Oh, right. Sorry. Guess that's just a habit now. Small birch sap. On the sour side. I will have a large dusk, please. Thanks. Vediamo. Allora, dovrebbe essere... Dovrebbe essere Satch. Potrebbe essere Juice. Con il limone. Proviamo. Allora. Allora, ha detto che lo voleva... Ehm... Piccolo, no? Quindi... Small. No, forse non è questo. Mm, mm, mm. Forse non è questo. Where will have a large dusk, please, thanks. Forse è ancora Juice. Forse è il limone, non va bene. Juice. Ci devo pensare. Juice, sì, sicuro. Juice. Però voglio... Dusk, please, large. We have a large dusk, please, thanks. Proviamo così. E lo voleva large. Quindi sicuramente... Al massimo. Yes. Iscriviti al video. No, è questo. No, non è buono. No, non è buono. È così, non è buono. No, come è? Il silenzio è fatto che... Questo non è buono. Non è buono. No, non è buono. Il sentito più bello. L'interessante. Beh, penso che sia comunque finito, no? Facciamo una parola Un altro round? No, ti prego Un casino, lo sto forzo perchè Un casino Un casino Un card Un casino Un casino Un casino Un casino Merezzi io credo che tu funziona per loro ah ok, finito così qui all'estero mi manca è Ulla allora a smol fuamiref thank you mmm 2 di caffè latte forse però l'acqua non l'abbiamo mai usata fuamiref proviamo oddio ho sbagliato primidino no che bello no 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 o l'altro? 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 è impossibile immagino anche quando sono così dritta anche dopo essere un knight di favonius per tutto questo tempo o l'altro? o l'altro? o l'altro? non ti fai a parlare di qualcosa di buono o l'altro? solo sei tu, Eula e continui avanti a presto o l'altro cambiare cosa pensano di Lorenz ok, grazie immagino che sia finito eh, mi sa che l'ho fatta stare un po' male perchè mi sa che stanno notizia speriamo che i bada tu tu viene non ti fai a parlare di tutto non ti fai a parlare di tutto e non potrei pensare di tutto niente fino a che scrivo tutto Eula è sicuramente più aperta dopo alcuni drinki ma mi sembra che qualcosa non ci fai senza la sua signatura linea oh oh quando si wake up in the morning non ti fai a parlare non ti fai a parlare di tutto ok, vediamo vediamo un attimino che ci manca ancora dell'evento ok, l'abbiamo fatto tutto possiamo riscuotere questo shaker grumo shaker grumo ma finisce così no e qui ok wolf drink again conferma vediamo com'è questo go to the challenge a careful teleport must ma è sempre lo stesso quindi ci sarà qualcos'altro da fare no che è? allora aspetta un bartender challenger allora ok 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 devo sempre andare in taverna devo sempre andare in taverna allora devo parlare con lui? ok ok bartender non ci fai ok 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 challenge start allora I have I had a team Pretty good Ah, c'è il tempo? Porca miseria, che cacchio ne so Così dovrebbe essere Eh Ah, Tuz Tuz dovrebbe essere sotto, no? Ma non ho capito sta cosa Guarda No Porca sbagliato No Non lo sa fare questo Qua è che è un extra milk? Mette un task 300 punti Che è una cosa per prendere questi premi Vabbè, dai, raga, io devo staccare Buon pomeriggio a tutti Grazie per essere passati E alla prossima E alla prossima Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti